una buona giornata benvenuti cari telespettatori di fano tv a questo nuovo appuntamento con l'informazione la rassegna stampa il commento alla stampa del giorno occhio ai giornali del mattino sono le sette per chi ci segue in diretta buongiorno a tutti voi buongiorno anche a coloro che ci seguiranno tra poco on demanda in tutte le altre repliche durante la giornata sul canale 19 del digitale terrestre che si vede ricordiamo in tutta la regione Marche in alta definizione allora cominciamo come sempre con il santo perché oggi è san lorenzo la notte di san lorenzo la notte in cui tanti faranno insomma le ore piccole per cercare di vedere qualche stella cadente e magari esprimere qualche desiderio ma noi ricordiamo invece che san lorenzo è stato un diacono e anche martire ha pagato con il sangue la sua fedeltà a cristo il sole è sorto alle 6 06 e tramonta si tramonterà le 20 e 21 adesso invece andiamo a vedere questa immagine ecco che vi propongo grazie anche per lo stacchettino musicale dicevo prima di andare a vedere il tempo con la grafica vediamolo dal vivo qui a fano vedete come il sole già batte sulle finestre che si espongono su piazza 20 settembre che naturalmente è la piazza principale della città di fano e che in questo scorcio in questa immagine ripresa dall'alto si vede così coperta da questi teloni che sotto i quali ci sono le bancarelle del mercato settimanale oggi mercoledì e come ogni mercoledì e sabato a fano c'è il mercato settimanale che si sta vedete piano piano animando con i primi avventori adesso invece andiamo a vedere il tempo ma non c'è molto da dire sul tempo perché dopo le piogge dei giorni delle ore scorse poche in realtà ma insomma questo è quello che ci attende per oggi per i prossimi giorni cielo sereno poco nuvoloso per oggi domani ancora cielo sereno su tutta la costa qualche annuvolamento invece sugli appennini po di pioggia invece venerdì segnalata soprattutto sui sibillini ma per il resto lungo il crinale pelinio qualche qualche temporale sull'appennino ma poca roba insomma deboli condizioni invece di instabilità vengono segnalate per la giornata di sabato mentre il ponte di ferragosto sarà caratterizzato da tempo stabile e solleggiato dunque un po di refrigerio invece per quanto riguarda le temperature questo dobbiamo ammetterlo soprattutto la sera la notte in queste serate si è dormito relativamente bene dal punto di vista almeno delle temperature ma queste sono quelle previste per la giornata di oggi alle ore 14 e comunque sono tutte temperature vedete intorno ai 30 gradi macerata a scolipiceno pesero fanno 28 insomma per trovare un po di refrigerio bisogna andare a monte bove sud dove la temperatura prevista è di 15 gradi insomma in montagna i giornali corriere adriatico come sempre adesso del carlino partiamo dalla pagina di pesero del corriere adriatico telecamere sulla movida ormai le telecamere ce le abbiamo ovunque installate a pesero nei viali del lungomare nuove spy cam più sicurezza contro eccessi risse e vandalismi poi chiaramente la giustificazione è sempre la stessa occhi elettronici anche al parco miralfiore per presidiare l'arco e l'area intorno all'omonima villa mentre a centro pagina il corriere di pesero oggi dedica la fotonotizia al tappeto rosso per il rossini opera festival cioè il red carpet che celebra l'eleganza e nella fotografia vedete da sinistra matteo ricci poi gianni letta e altri personaggi per il debutto nel segno di florets mentre la politica con le proiezioni dei partiti nelle marche trova spazio come sempre di spalla il centro destra parte in poll in tutti i collegi il pd ora trema il pd ora inizia a tremare nelle proiezioni dell'istituto cattaneo che sono circolate ieri nelle chat del partito regionale in tutti i collegi uninominali delle marche sia alla camera sia al senato il centro destra parte favorito i collegi del sud sono praticamente blindati i dem possono ancora competere pesero ed ancona ma la strada si fa in salita e il segretario letta prende tempo mentre le notizie in breve sempre da pesero palace lavori affidati diktat sui tempi finali a giugno 2023 poi la cronaca fa il bagno in mare con la tunica e con il velo e rischia di annegare a civita nova ucciso dal cugino per debiti di droga arrestato un tunisino a fano invece bici e monopattini elettrici per rilanciare il bike sharing fanno riparte con il progetto di mobilità sostenibile dopo il fallimento dell'esperimento di nove anni fa allora le biciclette ricorderanno i fanesi non furono utilizzate e quindi esposte alle intemperie finirono nel degrado ora invece parte un bando per biciclette e monopattini elettrici poi è ufficiale la serie c prende il via il 4 di settembre ovviamente serie c di calcio mentre il resto del carlino di pesero allora la fotonotizia è per il rossini opera festival applausi per la prima del festival in platea il ministro bianchi stasera la gazzetta dunque vaiolo delle scimmie pronti i vaccini arriveranno entro la fine del mese per alcune categorie l'asur segnaleremo i soggetti a rischio ovviamente su questa notizia sapete come la penso quindi evitiamo stendiamo un velo pietoso opere compensative parte l'esposto a borgo santa maria i cittadini vanno dal prefetto poi le candele accendono la notte show di fiammelle al mare mentre da fano la cronaca figlio violento si presenta a casa scatta l'arresto e sempre da fano il centro un salotto è l'horror tour del degrado ora questo è quello che tra poco vedremo nella pagina principale di fano un po come ha fatto il corriere qualche giorno fa con pesero anche fano oggi dedica una pagina intera a tutte tutti quegli angoli della città questa volta di fano che occorrerebbe passare transitare guardando a testa bassa senza guardarsi intorno perché veramente sono angoli di città lasciati così un po a se stessi abbandonate a se stessi mentre il calcio e il basket come sempre di taglio basso sul prima pagina del carlino vis torneo in romagna fano invece contro l'orvietana parliamo anche di amichevoli e quant'altro mentre la pallacanestro vl vicino al nuovo pivò sarà un esperto oggi attesa conferenza stampa di pizza entrerà con grandi ambizioni nel loreto allora vediamo adesso le pagine diciamo che ho selezionato per voi questa mattina per la rassegna stampa i prossimi dieci minuti li passeremo a dare un'occhiata ai titoli delle notizie più importanti allora intanto partiamo dalla cronaca dal fatto che civita nuova marche non se la sta passando bene in questi giorni come città omicidio per un debito di droga ucciso dal cugino sul lungomare quindi parliamo di un'altra persona rimasta uccisa sul lungomare a distanza di pochi giorni dal primo efferato omicidio in manette è finito un tunisino di 26 anni è stato trovato nascosto sotto un balcone che cosa è successo intanto chi è questo presunto assassino saidi aitem e ha 26 anni ed è l'uomo che ha ammesso beh ammesso quindi presunto sponchettoglio ha ammesso di aver accoltellato a morte rashid amri o ameri il trentenne tunisino deceduto l'altro ieri all'ospedale di civita 9 è stato assicurato la giustizia nel primo pomeriggio di ieri intorno a neanche 16 ore dopo l'omicidio avvenuto sul lungomare sud un delitto alla cui base ci sarebbe un debito legato allo spaccio di droga questa è la conferenza stampa del dell'arma dei carabinieri con il riquadro che il corriere adriatico pubblica dove ricostruisce tutta la vicenda un delitto che si è consumato lunedì scorso alle ore 10 alle ore 22 della sera 10 di sera il dove nel parco palatucci sul lungomare sud la vittima era rashid amri di 30 anni mentre l'arrestato come abbiamo visto è un 26enne l'arma del delitto è un coltello da cucina con una lama di 15 centimetri e dicevamo che due morti in dieci giorni insomma per civita nuova ma anche non è certo un un granché l'escalation di violenza ha scosso che ha scosso la città questo il titolo da alica a rashid una lunga scia di sangue allarme anche per le risse e questa è invece il fermo immagine che si riferisce all'altro omicidio al primo omicidio che è avvenuto in corso umberto primo a civita nova immagini che hanno fatto il giro del mondo mi trovavo lì due persone correvano urlavano la parlamentare migliozzi dice ho subito raccontato tutto mentre lucertini lucentini dice poche pattuglie sulla costa lui si è trovato a 100 metri dal luogo dell'accoltellamento il deputato leghista mauro lucertini fortunatamente ha detto ieri sera a montecitorio grazie alle telecamere volute dall'amministrazione comunale bla 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 e vabbè acquistate con il progetto cioè si è fatto pure lo spot senza vabbè qui manca lo stato dice dove è lo stato e questo è il commento fatto il commento spot fatto appunto su questa vicenda triste invece sulla quale bisognerebbe continuare a riflettere ma che già stasera tutti avremmo dimenticato fa il bagno in tunica e velo rischia di annegare questa è una notizia invece che prendo da fano dal corriere adriatico dove una donna musulmana è stata soccorsa a fosso sei ore siamo tra fano e pesaro i figli in salvo lei invece ha difficoltà per i vestiti qui parliamo di questo nuovo episodio fortunatamente a lieto fine accaduto nei giorni scorsi nelle acque prospicenti bagni oasi a fosso sei ore di una mamma con due figli piccoli che si trovava nella vicina porzione di spiaggia libera si è avventurata fra le onde impetuose finendo prigioniera di correnti che l'hanno trascinata dove nessuno dei tre toccava quindi sia lei che i figlioletti la scena non è sfuggita però a ad un ragazzo che svolge il servizio di salvataggio proprio bagnoasi si chiama emmanuel pensierini e che prima ha ripetutamente chiamato con il fischietto la mamma e i suoi due bambini poi non ha esitato di lanciarsi in mare quando ha notato che la donna cominciava a dimenarsi e a gridare quindi velocemente ha raggiunto i malcapitati con il baywatch in dotazione concentrandosi soprattutto sulla mamma preso atto che i due bambini sembravano comunque in grado di riguadagnare autonomia e quindi di stare più in tranquillità e più in sicurezza e alla fine insomma la donna che è di fede musulmana marocchina si era messa si era portata in acqua era andata in acqua con la tunica e il velo e potete immaginare se qualcuno di voi ha provato a fare il bagno vestito insomma come poi tutto diventi più complicato perché i vestiti bagnati diventano diventano pesanti e quindi danno insomma mettono in difficoltà soprattutto nei movimenti e quant'altro ora l'altra notizia di crone che invece a pagina 21 sul resto del cardino è da Fano figlio allontanato per maltrattamenti questo è il titolo ma lui si presenta alla porta e quindi viene arrestato è accusato di maltrattamenti contro la madre e il giudice gli ha imposto il divieto di avvicinamento alla donna ma lo scorso sabato sera lui ha violato la misura restrittiva del giudice ed è andato a casa della mamma a lei è bastato vederlo dal terrazzo per spaventarsi a morte e far scattare l'allarme alla polizia in manette finito così un trentenne di Fano disoccupato con due TSO cioè trattamenti sanitari obbligatori alle spalle il fatto è accaduto nel quartiere di San Torso dopo la convalida dell'arresto ieri l'imputato ha spiegato in aula che era solo andato a prendere delle medicine ora l'altra pagina pagina 23 invece si parla di un incendio scoppiato sul sul mezzo dell'aset di aset quello che raccoglie l'immondizia attimi di paura per l'operatore che ha scongiurato il peggio scaricando i rifiuti in fiamme sul piazzale perché poi questa è la procedura no più volte abbiamo raccontato di come appunto appena i sensori rilevano che c'è qualcosa di anomalo all'interno del mezzo gli autisti sono obbligati a seguire questa procedura che prevede proprio lo scaricamento di tutto il materiale ovunque si trovino meglio appena trovano in giro un piazzale qualcosa che possa essere utile per questa operazione per questa manovra ecco lo fanno e questo è successo anche a monteporzio l'altro giorno erano passate da poco le otto e mezza del mattino l'operatore che stava caricando nel suo camion il contenuto di due maxi bidoni per oggetti metallici nell'isola ecologica di via roma ha visto uscire del fumo e quindi ha fatto quello che doveva fare insomma provocare la scintilla potrebbe essere stata una bomboletta spray o lo sfregamento tra le parti metalliche poi da mondavio invece sempre la cronaca perde il controllo e cade dalla motocicletta grave un centauro di 23 anni è un grave incidente di cui parla sempre il carlino questa mattina che è accaduto alle 13 30 di ieri lungo la statale 424 della val cesano nel segmento che attraversa il territorio comunale di mondavio all'altezza del bivio per monte ricco un centauro ventitrenne residente a monte porzio che procedeva in direzione mare monte mentre era in sella la sua ducati ha improvvisamente perso il controllo della motocicletta rovinando sull'asfalto e finendo la sua corsa vicino alla recinzione di una casa poi da ponte sasso invece siamo vicino fano una coppia di turisti rischia di annegare sono stati salvati dai bagnini che erano in servizio i bagnini sono dario sabbatini e daniel rossi di bagni alda ieri intorno alle 17 hanno salvato due turisti di varese un marito e moglie di 61 e 55 anni perché la corrente li stava allontanando dalla riva la signora ha cominciato a bere e ci ha voluto l'intervento dei bagnini che sono riusciti a portare arriva i coniugi la pagina invece della valmetauro anche qui la notizia di questo incidente in moto dopo la curva soccorso da icaro cade in moto e vedete più o meno le notizie sono le stesse che abbiamo letto poco fa dal resto del carlino e adesso invece apriamo la pagina della politica vediamo un po come stanno andando le cose dal punto di vista pre votazioni pre elettorale intanto la fotografia come sempre la vediamo dal corriere adriatico che ogni giorno dedica almeno due pagine a questo termometro dedicato alle ai partiti in particolare i candidati e quant'altro allora il titolo è questo i democrat quindi la sinistra il partito democratico ora tremano in tutti gli uni nominali il centrodestra è favorito nel tetris dei collegi in vista delle politiche di settembre il pd sconta l'addio di calenda che sbilancia ulteriormente una situazione già difficile allora come vedremo e vi anticipo già la questione calenda è un po sopravvalutata alla fine calenda vale sì e no il 2 per cento quindi non credo che sposti chissà che però andiamo avanti resta qualche chance nelle caselle di pesaro dove si profila la sfila a carloni biancani e di ancona alla camera queste sono le proiezioni del corriere adriatico di oggi nei collegi vedete alla camera pesaro abbastanza sicuro il centrodestra ancona buono invece a maceratta blindato per il centrodestra ad ascoli fermo blindato anche qui per il centrodestra al senato marche nord quindi pesaro ancona buono per il centrodestra marche sud blindato insomma sui plurinominali invece la camera due per fratelli d'italia due partito democratico una la lega uno forza italia o movimento 5 stelle al senato invece uno per fratelli d'italia uno per il partito democratico e uno alla lega però vi dicevo e qui andiamo a leggere un attimo la prima pagina della verità perché poi se uno vuol vedere un po come stanno realmente le cose bisogna che esce dal sistema del mainstream quelli che hanno che scrivono solo quello che gli fa comodo e quindi bisogna andare un po a leggere in altre parti avere un po la mente aperta allora la verità questa mattina scrive calenda gonfiato vale solo il 2% che vada con il PD oppure corra da solo il fondatore di azione ha voti inversamente proporzionali al suo ego e alla sua arroganza sotto la soglia anche Renzi mentre la supera Paragone di cui non parla nessuno ma i giornalisti italiani vivono di strani innamoramenti il centrodestra è dato al 48% ovviamente come coalizione e trova l'intesa sull'introduzione della flat tax in 5 anni ora siccome il giornale giustamente sottolinea come molti giornalisti italiani vivono di strani innamoramenti quindi quando uno è innamorato parla solo di quella persona e il resto del mondo non esiste e purtroppo funziona così anche quando ci sono le elezioni quindi ci sono dei partiti, dei movimenti, soprattutto anche quelli nuovi che si stanno formando e qui mi riferisco in particolare ai movimenti antisistema come questo Italia sovrana e popolare che oggi affano, raccoglie le firme fino alle 8 di stasera in corso Matteotti ebbene, Italia sovrana e popolare di cui non parla nessuno come Italia Exit anche se Italia Exit di Luigi Paragone già qualche cosa riesce a ottenere evidentemente c'è qualche santo in paradiso e non solo ma questo partito, questo movimento che sta nascendo veramente dal basso e vi faccio vedere per esempio una fotografia guardate Italia sovrana e popolare di cui probabilmente i marchigiani non hanno mai sentito dire una sola parola guardate quanta gente c'è a firmare per raccogliere le firme tra l'altro sotto Ferragosto per cui non è neanche semplice questo cosa vuol dire? questa fotografia cosa vuol dire? che la gente ragiona con la propria testa qualcuno ancora ragiona con la propria testa e che di conseguenza si è stufata di ascoltare i soliti pappagalli che sulle reti nazionali dicono sempre solo le cose che vogliono loro ignorando invece quella che è una realtà che si sta facendo avanti con forza perché nasce dal basso, dalla gente che ragiona questa è Italia sovrana e popolare all'interno ci sono dei soggetti come Francesco Toscano di Visione TV piuttosto che l'ideatore di Bio Blue che è una televisione che tanto si è battuta per i diritti dei cittadini durante il periodo, i due anni e mezzo che abbiamo vissuto tremendi di restrizioni al limite veramente della dittatura ecco, queste sono le persone che stanno firmando in giro per l'Italia di cui non parla nessuno Italia sovrana e popolare la troverete a Fano oggi e anche nelle Marche per raccogliere le firme andate a vedere su internet anche voi andate a informarvi un pochettino vedete un po' che cosa dicono se vi ritrovate ma soprattutto andate a votare non fate l'errore di non andare a votare perché siete arrabbiati uno dice, tanti ne ho sentito fategli un dispetto a questi politici andate a votare non a votarli a votare due grandi progetti per i fondi PNR siamo sulla pagina di Fano museo e federiciana più accessibili via barriere fisiche e cognitive impegno di 3,5 milioni per il luogo espositivo e di 9,7 per la biblioteca poi un ciclista sempre sulla pagina di Fano cade vedendo un'auto un incidente che è avvenuto ieri sera intorno alle 8,50 in via Suncino dove un ciclista di 66 anni che percorreva la ciclabile è caduto vedendo sbucare da una traversa l'auto condotta da un albanese di 87 anni residente a Fano sulla discarica invece il sindaco di San Costanzo Sorcinelli appoggia l'esposto in procura eccola qua la foto invece degli angoli horror, così li ha definiti il giornale il resto del Carlino ruderi e pareti imbrattate nel salottino buono tour in centro storico tra degrado ed edifici in rovina l'avvocato Morosini dice basterebbe che il comune applicasse il regolamento urbano ecco vedete quali sono queste strutture, queste case questi edifici abbandonati per esempio in piazza Marcolini poi c'è sotto la casa di via San Leonardo a cui manca pure il tetto poi c'è l'edificio chiuso tra via Gasparoli e via Bovio insomma ce ne sono diverse anche purtroppo in basso vedete qui via Diamicis tutte in pieno centro storico qui addirittura siamo al Pincio dove stona certamente questa palazzina in rovina all'angolo questa qui il resto è tutto bello, tutto curato, tutto rimesso a nuovo e poi c'è questa bruttura che evidentemente sta lì nessuno riesce in qualche modo a convincere i proprietari a sistemarla, perlomeno a fare qualche cosa in questo caso bisognerebbe intervenire anche credo come comune obbligare se fosse possibile a prendere una decisione e a risistemarla a Senigallia invece banchina di Levante braccio di ferro, cordisie, lavori di prolungamento lettera aperta per sostenere l'intervento ma la gesti porte è contraria sarebbe dannoso per il porto in lacrime per Campolucci strumentista della banda lutto a Barbara e Ostravetere Fiorello è morto a 80 anni e ci saranno oggi funerali alle 10 a Barbara di Fiorello Campolucci noto appunto a Barbara e Ostravetere di cui era originario per la sua appartenenza a una dinastia di musicisti e per la sua attività quale componente per oltre 50 anni del concerto cittadino di Ostravetere poi arrivano quattro angeli della polizia locale assunti per cinque mesi attingendo alla graduatoria del comune di Grotta Mare due brevissime di sport una il Fano teste con Orvieto per crescere ancora oggi alle 17.30 allo stadio di Fano al Mancini contro una neopromossa in serie D Mosconi prova i giovani in difesa per l'assenza di Schiaroli la stessa lo sport invece sul Corriere la palacanestro VL servono due pedine la società pesarese prosegue la caccia al centro titolare poi si penserà il cambio del luogo intanto il 17 agosto partirà ufficialmente la nuova stagione con una squadra quasi tutta nuova e una squadra quasi tutta nuova ce l'ha anche la pallavolo di massima serie a Fano cioè la Vigilar la Virtus grandi stimoli per la nuova Vigilar tanta fisicità in più ma anche qualità sono parole del coach all'allenatore Maurizio Castellano che analizza la squadra della prossima stagione che appunto disputerà la serie A3 e con questo io ho concluso grazie per aver seguito Occhio ai giornali il commento alla stampa del giorno l'appuntamento con l'informazione torna questa sera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia arrivederci grazie a tutti grazie a tutti